Anno intenso il 2016 per l'arma provinciale dei carabinieri si registra una diminuzione dei delitti scesi da 10.700 a 9.894. I carabinieri hanno poi operato sul 69% dei delitti anche grazie alla presenza dei presidi. Le persone in arresto denunciate all'autorità giudiziaria sono state 22.267 contro le 11.435 del 2015, 877 gli arresti, 630 in fragranza di reato con un incremento del 15% rispetto all'anno scorso. I furti sono nel complesso in diminuzione passati da 4.927 a 5.455 in aumento quelli scoperti, ossia 449 diminuzione anche delle rapine, 86 su 110 in crescita quelle scoperte, 29 su 26 del 2015 nel comparto delle droghe, 105 kg di varie sostanze stupefacenti sequestrate. È stato un 2016 impegnativo, impegnativo per noi come per tutte le compagini del territorio, con tutte le istituzioni. Lo abbiamo affrontato con serietà, con professionalità, col massimo impegno per dare delle risposte sempre all'altezza alle comunità e ai cittadini. Non so se ci siamo sempre riusciti, il nostro obiettivo è quello di migliorarci costantemente, cercheremo di farli convinti come siamo che la sicurezza sia veramente lo snodo della qualità poi della vita di ognuno di noi. I dati ci confermano che l'attività che è stata condotta dal comando provinciale sia stata un'attività ben incentrata su quelle che sono le problematiche del territorio e non mi riferisco solamente alle problematiche criminali. Per fortuna abbiamo registrato un calo di delitti complessivi e di questi un numero crescente di delitti scoperti. Anche il numero di arresti di persone denunciate è in costante crescita, ma al di là dei numeri, ripeto, sono molto soddisfatto del legame che siamo riusciti a consolidare ancora più con il territorio e con le comunità. Consapevoli di questa responsabilità che ne deriva, cercheremo di adoperarci ancora più con impegno, serietà e professionalità.